bella liraga benvenuti al mio canale oggi vi propongo una scheda sd diversa da quelle che vi ho proposto fino ad oggi perché 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 costa davvero poco è in offerta attualmente su amazon con il 14 per cento di sconto costa 17 99 quindi 18 euro io di solito uso la sandisk extreme pro sulla gopro e la extreme sulla coau ho voluto acquistare un'altra per avere comunque vada la possibilità che se una è piena e un'altra probabilmente ne acquisterò un'altra ancora di questa sd card perché costa davvero poco se funziona bene attendete la fine di questo video per vedere perché farò due test anzi 31 con la coau 1 con la gopro e 1 una prova di trasferimento file sul mio computer questi video sono girati tutti quanti a 1080 con 60 frame secondo sia con la coau sia con la gopro così potete vedere la differenza l'unica differenza che c'è in questi video è che con la coau ho dovuto alzare al massimo la potenza del faretto rispetto alla gopro certo la coau alle sue impostazioni di per i video notturni ma devo dire che la gopro spacca di brutto cioè non c'è paragone beh chiaro costa anche molto di più con le impostazioni di base comunque vada basta un minimo di luce perché adesso il faretto regolato proprio al minimo e video vengono decisamente meglio non ce n'è non ce n'è almeno ditemi voi guardate fino alla fine questo video e ve ne renderete conto la sd card vi arriva così io ho già aperto la confezione per comodità l'ho già tagliata con la forbice qua c'è il tratteggio dove tagliare e quindi vi arriva così è di marca nita nita ha una velocità di scrittura di 100 megabyte al secondo è una velocità di lettura di 30 megabyte al secondo è adatta è una u3 quindi adatta a filmare qualsiasi tipo di video anche video 4k 5k non lo so devo ancora provarla ma secondo me non da problemi dunque tiriamola fuori dalla scatola ecco già uscita è saltata fuori da sola praticamente c'è questa plastica che la tiene ma è già schizzata fuori da sola è bella colorata come sd card la superficie è curata fatta bene è questa qui non so se ce la fa mettere a fuoco perché non lo so va bene ok questa è l'sd card è la prima volta che la uso vediamo come va guardate i video test e ditemi voi dunque questo video è girato con la coau spc 02 a 1080 per 60 frame secondo con la nuova sd card nita da 128 gigabyte come si vede ditemi voi sembra che funziona sì ecco qua questo è il video fatto con la scheda sd della netac ogni tac fate voi a 1080 60 frame secondo giudicate voi anche la differenza tra la gopro e la coau con la gopro il faretto è al minimo praticamente con la coau ho dovuto alzare tutta la potenza della luce quindi la qualità gopro contro la qualità della coau certo la coau potrebbe essere regolata un po meglio per i video fatti al buio è ok ma la gopro comunque vada anche con il settaggio di base fa dei video del genere se non credete che sto usando la netac ecco questa è la scheda che io uso di solito che una sandisk extreme pro ma devo dire che anche la netac funziona molto bene ho provato a fare ho provato a scaricare un video vi lascio questa immagine bene vedete da voi che lavora molto bene e veloce come sd card quindi la consiglio costa davvero poco vi lascio il link in descrizione consiglio di acquistare quella perché funziona bene costa poco e avete fatto tutto questa sera l'ho provata diverse volte con varie action cam ho provato a spostare grandi file all'interno del mio computer senza alcun problema quindi vale i soldi che costa vi consiglio di acquistarla e ne sarete soddisfatti bene ragazzi è passato un giorno ho fatto vari test con questa sd della netac ma mi rimaneva un dubbio quindi l'ho messa nella gopro e ho registrato questo video questo video è girato a 5.3k 60 fps quindi se lo vedete vuol dire che questo sd card funziona veramente bene ho già fatto delle prove comunque e devo dire che il passaggio dalla sd al mio pc è stato corretto nessun problema bella veloce per comodità questo video verrà pubblicato in formato 1080 30 fps secondo perché vabbè tanto è solo per far vedere che funziona correttamente tutto quanto quindi non serve avere sd card super costose super pubblicizzate super conosciute l'importante è utilizzare una memory card che abbia la capacità e la velocità che serve questa è una U3 quindi state tranquilli nel dubbio con un programma apposta che ne verifica l'effettiva capienza ho fatto una scrittura per riempire completamente questa sd card e i 128 gb sono effettivi quindi non è un fake vi lascio in descrizione il programma che ho utilizzato per fare questa prova così se avete qualche sd card che vi lascia con il dubbio potete testarla quindi bella lì raga power robie link per l'acquisto e link del software in descrizione dove ci sono i commenti iscriviti al mio canale perché ce n'è sempre una bella lì grazie a tutti